Un libro di Camilleri sicuramente E' perché siciliano, perché è polveroso Sarebbe un giallo sicuramente Assassino sull'Orient Express C'è ghiacciante E sarebbe un horror E perché tutte le volte che inonda cambia canale L'uomo che guarda la posta dei treni Perché tutti vanno avanti e lo rimane sempre fermo Un'espressione siciliana Mezzega Che ho inventato io Una capponata Viva la papa al pomodoro Che ho inventato io Una canzone siciliana Perché è siciliano? Donna Rosa Sciuri sciuri Beh, noi ci andiamo dopo, dai, ciao Lenta, noiosa Una canzone classica Ma proprio classica Ehi, vai, 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 vai Grazie Grazie Allora Grazie a tutti Grazie a tutti